Buongiorno a tutti, vi presento la scuola di alta formazione e gestione dei rifiuti che quest'anno ha giunto ormai alla quarta edizione, che anche quest'anno ha fornito una serie di spunti interessanti, visto che andando ad analizzare la filiera e le sue particolarità, andando ad analizzare tutte quelle che sono le ultime novità normative, ha fornito e a noi docenti e ai numerosissimi partecipanti anche dei grossi spunti di gestione che poi, ed è lo scopo della scuola, vengono e verranno applicati nella loro realtà operativa. Siamo molto contenti, ecco ricerche ormai il decimo anno che collabora con Ravenna, con la manifestazione e fare i conti con l'ambiente e siamo molto contenti del risultato che portiamo a casa, perché vista che la manifestazione è una formazione dal basso, noi che siamo comunque i fornitori di questa formazione riusciamo a raccogliere una serie di esigenze da parte dei partecipanti che ci consentono poi di fare al meglio il nostro lavoro. Quindi un grazie all'organizzazione e come sempre un arrivederci al prossimo anno. Grazie!